Con un concerto di Moni Obadia è stata inaugurata la riapertura al pubblico della Chiesa di San Giovanni Maggiore, la magnifica basilica, il cui impianto risale al IV secolo, da anni chiusa per lavori di ristrutturazione e restauro, curato dalle soprintendenze napoletane e dall'Ordine degli Ingegneri. All'evento hanno preso parte fra gli altri il sindaco De Magistris, l'assessora alla cultura di Nocera e il soprintendente per i beni architettonici gizzi. Moni Obadia e la Stage Orchestra hanno eseguito il Recital per la Memoria, primo evento della rassegna Il Rito Ritrovato, un percorso musicale e multiculturale ispirato al tema dell'accoglienza, con una riflessione sull'incontro fra genti e culture diverse e in particolare sul popolo Rom e Sinti che con gli ebrei condividono storicamente la condizione dell'esilio. La straordinaria Chiesa Paleocristiana, situata a pochi passi dalla sede dell'Università Orientale di Palazzo Giusso, sarà prossimo scenario di nuove iniziative culturali.